Hola io sono Marco Scrono e signore e signore bentornati nella Spacecraft questo pack è strafico, non finirò mai di dirlo è davvero davvero quello che ci voleva subito dopo un open world come la Tekken Beacraft invece questa qui ecco l'hard quest che è interessantissima come mod devo dire che sono molto molto grato e mellifluido che non è melliflu ragazzi, è una crasi mellifluido ai creatori perché straficissimo e davvero implementa in Minecraft un sacco di cosine molto 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 sfiziosa nell'ultima puntata siamo riusciti a fare il sieve dell'Aix Nilo, eccolo qua e che cosa ha scoperto il vostro Arcus Grone? che se ci metti dentro il materiale della luna di cui è composto la luna ci droppa un sasso ok, è quello per fare la stone invece io ci ho droppato questo ci ho messo il Moon Dirt possiamo vedere che il Moon Dirt ci dà sempre il sasso ci ha dato una Blaze Rod, molto bene fantastico, ci ha dato un seme e ci ha dato un'altra pietra mentre questo che è il Moon Torf ci dà la Glowstone, fantastico la Redstone, fantastico anche questo niente perché ogni tanto niente ci sta che succeda altra Glowstone è un po' lentino è davvero molto lentino però ci dà una grande soddisfazione quando verrà automatizzato tutto quanto? siiii cazzo ok, ci continua a dare la Glowstone verda ci ha dato il Moon Mill allora io questa cosa l'ho scoperta cliccando a casaccio qui get tarfed perché ci dà una ricompensa se prendiamo tutto quello che ci dà il tarfed qui il tarf scusatemi quindi manca il Bone le Ancient Spore e la Gunpowder noi dobbiamo continuare a mettere il tarfed qui dentro fino a quando non ci dà queste cosine ci ha dato il Flint che sinceramente non è che mi interessa tanto però va bene lo stesso il Bone attenzione ce ne mancano due un po' mille non ci interessi vediamo un po' non ci interessa la Glowstone dammi l'Ansian Spore dammi l'Ansian Spore dammi non me la dà ragazzi non me la dà qualcuno mi faccia dare l'Ansian Spore attenzione possiamo andare avanti questo si ci manca la computer ci manca la computer già ce l'abbiamo ce l'abbiamo ragazzi abbiamo il Zaccarosio e prendiamo la reward bag a random vediamo com'è è greta è fantasticamente greta quindi buttiamo tutte cose qui dentro e apriamola speriamo in qualcosa di buono Rocket Fuel Tank oh oh non male non male Rocket Fuel ragazzi non male ci servirà non non disdegnate perché ci servirà interessantissimo oh my god seven expansions vediamo un po che ci dà con qualcosa che cazzo what i need my rock giustamente con la gravel otteriamo le cosine e ma la gravel no aspetta non con le gravel my father book ok sì ma io non ce l'ho ragazzi io non ce l'ho a roccia cioè posso fare il piccone de merda praticamente de legno ah no aspetta 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 ma che cacchio dico ce l'ho la roccia eccola se faccio così dovrei ottenere un pezzo di cobblestone quindi forse fra 700 miliardi di anni no va bene facciamo un piccon house un po decente eccolo quest cioè l'unico piccone che riesco a fare in realtà oh mio dio ma questi cosi stanno aumentando ma non è che mi finiscono sopra casa mi spaccano tutto quanto andiamo a prendere la dirt che sembra essere quella che ci dà la pietra con la pietra possiamo fare le fornaci possiamo fare un po tutte cose e visto che sono un esserino mosso da enorme curiosità di questo pack volevo vedere che succede se vado un pochino più a fondo sulla questione magari incontro la roccia roccia che è evidente il mio piccone non è in grado di spaccare mortacci mia mortacci stracci però con 27 quindi di pietrozza vediamo se no stanno stanno ciocciorellando tutti intorno con 27 di 20 32 di pietrozza possiamo zompettare dentro la nostra base andare a mettere al posto del tarf la dirt e vedere che ci danno ci da un po di sassolini dammi il sassolino non chiedermi niente dimmi che hai bisogno di me che cazzo mi ha dato il cactus seed o il cactus posso piantarlo è ora di piantarla ragazzi non me lo pianta non me lo pianta il cactus perché non me lo pianta il cactus è ora di va bene lo stesso va bene lo stesso ce ne servono per fare un piccone decente ce ne servono altri 12 no non ce ne servono altri 12 non è vero ce ne servono altre basta o una carota una carota grazie gentile ok signore e signori possiamo fare altri tre pezzettozzi di cobblestone con le stick signori siamo nell'era tecnologica però adesso abbiamo un piccone vediamo un po se riesciamo non si rompe non si rompe ragazzi questo ok possiamo minare finalmente la pietrozza vediamo un po se la pietrozza ci aiuta in qualche cosa ci fa fare gli altri tipi di roo silicon interessante meteo fallo vediamo un po can be found in many a little no no will drop meteoriche iron when broken drop change 1 per cento e come faccio a romperlo cioè nel senso sembrerebbe molto difficile romperlo sembrerebbe molto 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 difficile romperlo accidenti accidentaccio ragazzi comunque ne ho 14 mentre possiamo controllare che il il tarf ah no il tarf l'abbiamo già fatto e chi se ne frega della musica il dirt il dirt ci dà le cose da mangiare e la stone cose da mangiare che però non mi ricordo come si craftano non mi ricordo cioè non mi ricordo come si mettono giù ecco è questo il punto forse il cactus seed forse c'è la la mod dell'agricoltura non lo so non lo so lo scopriremo solo vivendo don dole don dole don dole don dole don dol 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 duy ok che abbiamo un pochettigno io direi che è il momento di tornare a casa e di fare un po di iron Sì finalmente Oh sto male sto male sto male Mangiamo qualcosa Cioè sto morendo di fame Mangiamo questo vediamo Sì si mangia mangia E' un po' basso il volume del gioco vero? E' identico non è cambiato niente Ma va bene lo stesso chi se ne frega Uuuuh ma chi fa sdroppa Ah sdroppa le canne vuote Interessante Vediamo un po' che ci da questo fregnolo Facciamo così Niente Oddio Posso farci la cobblestone con questa? No Evidentemente no ragazzi Mi dispiace molto Però non ce la facciamo Vai 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 dacci qualcosa di buono Non ci da niente ragazzi Non ci da niente Sì del carbone Ottimo Del ciarbone Altro ciarbone Altro ciarbone C'era un goal che voleva 10 di carbone Ragazzi Si va così Ci metto un pezzo di ferro Cactus seed Come si piantano i cactus seed Non lo so Lo ignoro davvero Forse vanno sulla dirt Non lo so Dai Altro carbone Sì Carbonati Carboncoccati Carboncoccati Sì però questo passo Famo notte Alello Uh Silicone Rosicone Oh my god What? What the fuck? Silicone Silicone Con la piscazzolo Eh ci da No Fammi vedere Ci da il Ok Che fa Eh sì Ok Oh mio dio Ci sono tantissimi crafting nuovi Fantastico Fantasticissimo Ci abbiamo preso anche la La clay Ottimo direi Per fare la clay Molto 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 buono Silicone Purtroppo la Buttata è un po' statica Però va bene lo stesso Perché poi ci si aprirà i bondi E sarà fighissimo Fare tutto automatico Spero Intanto abbiamo due Broken di iron Ragazzi Con due Lo sapete che ci facciamo? Niente di niente di niente Esatto Esatto Niente di niente di niente Vediamo un po' che stiamo prendendo Anche l'alluminio Il broken copper Buttiamolo qua dentro E visto che ci stavo Volevo anche prendere Che cosa era? Era la dirt Che mi faceva Mi dava i pezzi Sì Mi metto a fare Farmi tutta questa dirt Per darmi i sassolini Perché voglio fare una fornace E con la fornace Non posso fare la fornace snub E con la fornace fare Una patata Ah grazie Non una patata Ma cuocere il legno grezzo Così facciamo anche il carbone Anzi il char chowal Rieccoci qui Ho fatto un sacco di pezzettozzi Di stone Con cui possiamo fare La goblestonina bella Eccola qua E con cui fare Una fornace Yes Fornace che mettiamo qua Ho fatto anche un sacco Un sacco Un sacco Un sacco Di legna Quindi andiamo a farla Sbrillentare In legna lavorata E la usiamo al posto Del carbone Se non sbaglio Voleva dieci pezzi di carbone Quindi Eccoli qua Di qua Noi abbiamo Dove ha messo Il carbone Quello normale Eccolo qua E continuiamo La nostra opera Con il murrock Che non ho soltanto questo Ma perché Vi dai sempre Questa merda Di verda Io voglio il carbone Ragazzo Darmi dieci di carbone Non voglio il copper Voglio il carbone Mentre ci fa Mentre ci sta facendo Il cerciolla Ci serve il carbone Siamo a sette signori Sette E' il numero perfetto Ciaone proprio Dunque 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 Sbrigati 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 Sì otto Eccolo Eccolo arriva Sta arrivandolo Sta arrivando Ricordate che ogni volta che Comunque non ci da qualcosa Probabilmente ci sta dando altro Che non vediamo nella hotbar Nove Andiamo Andiamo No Accidenti Vai Vai bello di casa Movi te Movi te Movi te Movi te Prego Movi te No non voglio il ferro Non è questo il momento di ferrare Poi lo faccio off camera Oh Dammi il carbone Ecco Oh Mo te Ti ammollo Una caramella No la voglio la clay Dammi il carbone Oh Regà Scusate Ammazza che sfiga Ammazza che sfiga Su Che cazzo ci ha dato Un blocco di Posso fare Posso fare Posso fare Posso fare Mi serve un secchiello Danazione Mi serve un secchiello Quanto ferro sto Sto a Quattro di ferro Con questo ferro qui Noi possiamo fare Questo blocco qui Bellissimo Poi fare A così Fai di nuovo A così E se non sbaglio Oddio come si faceva il martello Era Era così 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 e così No Così No Eccolo qua Il martellozzo di legno Il martellozzo C'ha una sciance Che questo qui Ci dia Cinque polveri Quindi invece di quattro Ce ne da cinque E con queste cinque Io posso fare Un altro di questi Che posso Forse Mi viene No Me ne vengono Soltanto quattro Avevo attivato Questa qui Per praticità Vediamo un po' E alla fine L'iron dust Se non sbaglio Non si può più rifare E infatti Ma dentro Dove è finita Iron dust Pronto Aha Eccola qua Si nascondeva E dentro la fornace L'iron dust Ci da un lingotto di ferro Ma ti chieni Ma noi comunque Ci servono Un altro Ci servono Un altro pezzo di carbone Uno soltanto Per chiudere la puntata in bellezza Quindi Che ci ha dato Un lapiscazzolo Niente bad ragazzi Sempre Si Ma vorrei il carbone Cazzo Dammi il carbone Ma è quello del carbone Questo Ma non è me sto sbagliando Scusate eh Si è quello del carbone È il 10% Dai No dai No dai Concentriamo tutta la nostra energia sferica Dai c'è il carbone 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 Questa è la puntata di Dai c'è il carbone Oh niente No ma sei bravo Bravo Eccolo che arriva Woohoo Signori Allora qui ci manca Fallenmeuter e Diamond E ce l'abbiamo quasi tutti Di qua Che è questo Di qua l'abbiamo claimato Di questo ci manca Sugarcane E Pumpkin Seed Ma invece Qui abbiamo Il coal E il charcoal Qui possiamo scegliere Soltanto uno tra Il coal generator E lo styling engine Generator Però se non sbaglio Di qua C'era Una C'era Una Ecco qui Styling generator Ci dà questo E questo Mentre di qua C'è il trash can Quindi io con lo Stirling Potrei ottenere Più Di una reward Quindi andiamo a prendere Lo sterling engine A parte che È carinissimo L'insect Sterling generator Che è davvero carino Quindi Voilà Scegliamo questo Lo claimiamo Ed ecco qui La nostra nuova fonte di energia Ragazzi Lo sterling generator Oddio qua No c'ho paura a piazzarlo Metti che E visto che ho uno Stirling generator Andiamo qui Dov'è More power Facciamo così E merda Era di crafting Merda che non sono altro Però signori Sono molto 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 contento Perché stiamo andando avanti Veloci Un po' noioso il fatto Di dover cercare No l'ho rotto Ok Ritorna Ritorna a me Un po' noioso il fatto Di dover cercare Il carbone Però Con questo pezzo di ferro Io mi metterò a farne altri Con questo pezzettino Bellissimo di ferro Anzi con altri pezzettini Bellissimo di ferro Faremo un secchiello Con il glass Con l'ice E questo Faremo un generator di cobblestone E speriamo che ci sia Node C'è Santa face Sì Possiamo fare La cobblestone Generata automaticamente E quindi Saremo in grado Di produrre All'infinito Materiali Sarà fantastico Abitare sulla luna E sarà fantastico Andare Nelle altre Nelle altri pianeti Perché se non sbaglio C'è venere C'è mercurio E ci stanno tutte cose Signori Io sono Marcus Crono E pollice nel su Alla prossima puntata Bella per voi